Operazione aggancio eseguita in barba al Covid. Dopo il nuovo caso di positività che ha scosso l'ambiente bianco-rosso e causato il posticipo della gara in serata, il Perugia batte 3-0 il Padova nel big match della decima giornata del girone BDC e a guanti in vetta proprio i patavini a quota 20. Dopo un primo tempo equilibrato e arido di emozioni, la gara cambia repentinamente dopo 11 minuti della ripresa. Corner di Dragomir prolungato da Rosi sul secondo pallo dove c'è Melchiorri, conclusione sporca in diagonale che sgarbi con un sontuoso colpo di tacco, deposita in rete per il vantaggio bianco-rosso. Al 69esimo ancora Melchiorri sfila palla ad un incauto gasbarro ed alimenta la corsa di Rosi che sulla pressione di Kresic mette in mezzo basso. Vannucchi non trattiene un pallone apparentemente semplice lasciando la possibilità a bianchi mano di insaccare di puro opportunismo il tapin del 2-0. Il Perugia è padrone del campo e la vittoria è ulteriormente certificata al minuto 84 quando Dragomir duella di forza con Saber e serve la corrente Sunas che ca da terra dopo un contatto con Ronaldo. Rigore e doppio giallo in un amen per il brasiliano che protesta e viene espulso dall'arbitro marcenaro di Genova. Dal dischetto va bianchi mano che spiazza Vannucchi, doppietta personale e trisservito a coronamento di una serata regale per il Grifo che domenica alle 15 farà visita da prima della classe al Carpi. La svolta è stata la determinazione, la voglia che hanno messo i ragazzi in campo, la voglia veramente di vincere, credo sia stata superiore dal primo minuto fino all'ultimo. Già da domani non si deve più pensare a questa partita, questo è l'errore più grande perché adesso arriva il momento più difficile e non ce lo possiamo permettere perché cambiare mentalità, cambiare atteggiamento significa buttare all'aria questo mese di lavoro, questo mese e mezzo. Non ce lo possiamo permettere perché abbiamo intrapreso una strada e la dobbiamo portare avanti al di là del risultato. Non significa che il Perugia deve continuare a vincere tutte le partite, ma il Perugia deve continuare a lottare tutte le partite come sta facendo.